Ciao a tutti, lascia aperto il cuore a chi sta arrivando. In questo video voglio spiegarti come se vuoi vivere una nuova storia d'amore devi lasciare aperto il cuore e togliere quello che c'era dentro, prima. Perché se un bicchiere è pieno devi prima svuotarlo per poterlo riempire nuovamente. Prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che se ti abboni al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E veniamo al tema, lascia aperto il cuore a chi sta arrivando. Allora, dobbiamo tenere presente questo fatto che molte persone si lamentano di non riuscire a riprendersi dopo una storia d'amore andata male, dopo che hanno avuto una delusione sentimentale, dopo che le è capitato questo, dopo che le è capitato quello, non riescono a riprendersi, cioè ritrovare una nuova relazione. Pur loro affermino di volerla, questa nuova relazione. Perché è un discorso se uno dice, no, ho avuto sta cosa, non me ne frega assolutamente niente, mi voglio divertire, voglio stare da solo. Poi, ripeto, oppure avere relazioni interagenti, così, senza complicazioni. Ognuno è libero di fare le scelte che vuole. Ma qua si parla di persone che dicono di voler costruire una nuova relazione sentimentale affettiva, ma in realtà non ci riescono. In realtà non riescono a ricostruirsi una nuova relazione sentimentale affettiva. E questo si manifesta per diversi motivi. Il motivo fondamentale per cui si manifesta è dato dal fatto che non si sono slegati dalla relazione precedente. Questo è l'unico vero motivo. Cioè, non hanno chiuso con il passato. Questo è un qualcosa che bisogna tenere presente. Bisogna chiudere con il passato se vuoi aprirti al presente, quindi al presente futuro. Chiudere con il passato cosa significa? Significa non avere più, diciamo, delle situazioni in cui ti senti vincolato, ti senti bloccato. Situazioni in cui, diciamo, pensi sempre ad un'altra persona. Ma qua come si fa? Perché uno dice, beh, come si fa? Devi fare veramente un atto di coraggio e dare valore a te stesso. Perché altrimenti continuerai a inseguire i fantasmi. Continuerai a inseguire situazioni che non ti porteranno di fatto da nessuna parte. Non ti daranno nessun beneficio. Allora, devi fare un atto di coraggio. Un atto di coraggio qual è? Un atto di coraggio è quello di intraprendere, di chiudere dentro di te questa relazione. E puoi farlo con un atto simbolico, se proprio non ci riesci. Io consiglio il funerale. Il funerale perché è un atto simbolico che permette di, a livello proprio di simbolismo, noi siamo, viviamo di simboli di fatto. E il funerale è un simbolo. Cioè, nel senso che, a che serve il funerale? È una cerimonia che sancisce la fine. La fine di una persona nella sua forma, diciamo, di persona viva. Poi, ovviamente, io credo che ci sia una continuità. Però, come dire, quando una persona muore, quel corpo fisico lì non è più attivo, non è più funzionante, si disgrega, per cui è importante, diciamo, chiudere, no, questo contatto. Ecco, quindi è fondamentale, è fondamentale rendersi conto di questo. Se tu vuoi chiudere, diciamo, completamente con una persona, quello che devi imparare a fare, quello che devi imparare a fare, è quello di, e se non ci riesci, fare un funerale. Fare un funerale vuol dire, proprio a livello simbolico, prendere una tomba, una fotografia, seppellire, perché poi il nostro cervello, diciamo, non distingue tra le cose immaginate o tra gli atti simbolici e gli atti reali. Pensate alla bandiera. La bandiera rappresenta la patria, rappresenta la nazione. La bandiera è di fatto un simbolo. Eppure molte persone si commuovono di fronte alla bandiera, no, perché un simbolo è un qualcosa che ne rappresenta un altro. Quindi una fotografia rappresenta in realtà proprio quella persona, perché diventa, è del principio, diciamo, della magia empatica, o della magia simpatica, in cui si è proprio, diciamo, un qualcosa ne rappresenta un altro. La bambolina rappresenta, dove tu ficchi gli spilli per dire, rappresenta quella persona. E questo bisogna tenerlo presente, no? Quindi noi funzioniamo in questo modo. Quindi quello che bisogna fare è mettere l'intenzione, quando non si riesce a chiudere una relazione in modo diverso, di fare sto funerale, in modo tale che metti anche a livello simbolico la parola fine a questo tuo pensiero, a questa tua situazione che non ti permette di iniziare una storia nuova. Perché se il tuo inconscio capisce che tu hai ancora interesse verso una situazione, non ti fa apparire situazioni nuove, non ti fa, non ti dà la possibilità di viverle proprio. Perché l'inconscio funziona in questo modo, funziona per catena associativa. Se tu gli mandi il messaggio che sei ancora interessato a una situazione pregressa, lui ti tiene legato alla situazione pregressa, non ti fa vivere una situazione nuova. E questo è fondamentale, capirlo, perché è quello che ci permette di liberarci finalmente di nuove, ci permette di liberarci energeticamente e dare finalmente la possibilità a nuove persone di entrare nella nostra vita. Quindi fare il funerale vuol dire proprio prendere una fotografia, prendere una scatolina che fa da bara, farci una croce sopra, farci qualcosa sopra, portarla, che ne so, in un giardino, una buca, seppellirla, e poi, che ne so, magari metto un fiore, non lo so, qualcosa di simbolico che rappresenta proprio la parola fine. Da lì in poi vedrai che si apriranno cieli nuovi, terre nuove. Avrai possibilità di vedere verdi praterie, sconfinate praterie, di nuove possibilità. Bene, se questo video ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai le notifiche ai nuovi video, e ti ricordo che sul canale è disponibile la sezione abbonamenti, se ti abboni potrai ricevere risposte precise mirate alle tue domande. Ciao a tutti!